Buona giornata a tutti, buon inizio di fine settimana e bentornati e benvenuti sul mio canale. Iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace al video se quest'ultimo sarà di vostro gradimento. Parliamo un attimo di una questione che tiene banco da ieri, da quando si è tenuto il sorteggio per il tabellone di Wimbledon. Sia qui sul mio canale ma in generale su più ampia scala, su vari siti di informazione e su altri canali, ho letto dei commenti e delle opinioni secondo cui il sorteggio di Wimbledon sia stato pilotato, sia stato architettato ad hoc per favorire Novak Djokovic per permettergli di affrontare i primi turni in maniera agevole, senza troppi patemi e cercare di trovare la condizione fisica ottimale in vista della seconda settimana dello slam dove affronterà i primi avversari un po' più ostici se così li vogliamo chiamare e in quel caso magari Djokovic sarebbe già un po' più rodato e pronto per provare a fare il colpaccio. Diciamo che questa tesi è basata sul fatto che Sinner dal suo lato si è trovato Alcaraz, si è trovato comunque Medvedev, si è trovato tutta una serie di avversari a cominciare dai primissimi turni molto ostici, molto duri da affrontare, al contrario del serbo che in dubbio fino all'ultimo se partecipare o meno. Si iscrive alla contesa, i primi turni obiettivamente sono abbastanza per un Djokovic che sta bene, ci tengo a sottolinearlo, sono quanto meno sulla carta agevoli, però agli ottavi di finale incontrerebbe Rune, ai sedicesimi Cverri, quindi fino ai sedicesimi non sarebbe un percorso complicato, però faccio due premesse. La prima, per come sono fatto io, e ripeto proprio come sono fatto io è una mia concezione, che non vuole assolutamente influenzare gli altri, di base mi rifiuto io di pensare che i sorteggi possano essere pilotati o quantomeno indirizzati verso un tipo appunto di sorteggio piuttosto che un altro, perché mi toglierebbe quella passione nel seguire uno sport e quella purezza che anche se so che al giorno d'oggi quando c'è il denaro di mezzo tante volte non c'è, però ecco non mi farebbe godere le partite, i tornei alla stessa maniera, quindi preferisco evitare di pensarlo. Detto questo vi dico anche un'altra cosa, ricordiamoci Djokovic da inizio anno ad oggi che Djokovic è stato ed è, è un Djokovic che non ha vinto nemmeno un torneo, è un Djokovic che a Roland Garros è uscito prematuramente, è un Djokovic che non è competitivo come lo è stato nella passata stagione e negli anni precedenti, quindi è vero che sulla carta, e ripeto sulla carta, apparentemente il suo è un tabellone più semplice, ma è un Djokovic che potrebbe anche andare fuori, a mio modo di vedere, anche al primo turno contro Kopriva. È un Djokovic che non può rappresentare una minaccia per Jannik Sinner ad oggi, anche perché se solleviamo la questione fisica nei confronti del nostro Jannik, che è arrivare in fondo con un tabellone del genere, affrontando Alcaraz in semifinale e nei turni precedenti avversari comunque ostici, non al pari dello spagnolo, ma comunque ostici, potrebbe far sì che Sinner arrivi in finale fisicamente spremuto. Sono d'accordo, però lo stesso vale per Djokovic. Io non credo che Djokovic i primi turni vinca 3-0, 6-0, 6-0, 6-0. Faccio fatica a crederlo e a pensarlo. Mi aspetto più un Djokovic che magari sì, possa superare 2-3 turni, ma comunque con molta difficoltà. Ma stile Roland Garros, quando prima Musetti e poi Serundolo l'avevano messo le corde e poi Nole è riuscito con le sue migliori armi a invertire il senso dell'incontro e andare poi a vincere in rimonta. Però non lo so, sarò io che la vedo in questa maniera qua, però a me Djokovic non fa paura, a me Djokovic non spaventa, anche perché nell'ottica di Sinner, parliamoci chiaro, L'avversario di Sinner principale ad oggi rimane Alcaraz, ma oltre a quello l'avversario di Sinner è quasi se stesso, nel senso Jannik ad oggi ha tutte le carte in regola per fare un gran torneo, per fare delle grandi partite, delle grandi prestazioni, un turno dopo l'altro. Quindi noi dobbiamo pensare, secondo me, a Jannik nella sua totalità ad affrontare un avversario alla volta e a dare il meglio di sé partita dopo partita. Quando sarà che si arriverà in semifinale, in finale o comunque nei turni più caldi, salienti, allora lì si potrà ragionare, però a bocce ferme, con solo il tabellone stilato, è veramente troppo presto per tirare delle conclusioni. Chiaro, ora abbiamo il quadro davanti, siamo tutti concordi sul fatto che non sia un tabellone semplice, che non sia stato un sorteggio semplice per il nostro Jannik Sinner, però non dimentichiamo che il numero uno del mondo, che viene da un torneo di alle strepitoso, dove ha performato in maniera sublime, dove è risultato vincitore, è il numero uno del mondo, campione degli Australian Open, vincitore della Coppa Davis e di tanti altri tornei nell'arco di quest'ultimo anno. Quindi sono gli altri che devono temere Jannik Sinner, Djokovic compreso. Quindi sia che il tabellone e il sorteggio sia stato indirizzato o meno, per me poco cambia, anche perché c'è più gusto ad arrivare in fondo con una serie di avversari del calibro, di quelli che potrà andare a incontrare Jannik Sinner. Poi è chiaro, la vittoria di uno slam rimane sempre la vittoria di uno slam, indipendentemente se al primo turno hai trovato un giocatore forte, un giocatore debole e via dicendo, però l'anno scorso, come avevamo già detto in altri video, Sinner si era spinto fino alla semifinale incontrando sul suo percorso degli avversari che sulla carta quantomeno non rappresentavano un'insidia a livello di Jannik, anche se era il Sinner del 2023. E infatti è arrivato abbastanza agevolmente fino alla semifinale, dove poi ha perso per 3-7-0 contro Novak Djokovic. Quest'anno magari si potrà configurare un percorso in cui Sinner potrebbe avere qualche difficoltà in più, anche se non è il giocatore dell'anno scorso, è totalmente un altro giocatore, e magari arrivare comunque in fondo ed essere a livello fisico ancora più rodato, ancora più pronto. Quindi se abbiamo dei dubbi a livello fisico sulla tenuta di Sinner sui 5-7 e sulle due settimane dello slam, figuriamoci Djokovic che viene da un infortunio. Quindi ecco, a me la questione è questa. Il sorteggio non spaventa, lo analizzo per quello che è, lo prendo per quello che è, e come ho detto non mi va di pensare che sia pilotato, indirizzato, insomma metteteci voi l'aggettivo che volete. Io sono convinto che il sorteggio è uscito per quello che è, casualmente. Djokovic che venga aiutato o meno per me non rappresenta una minaccia. Se anche dovesse superare due, tre turni, arrivare agli ottavi, ai quarti, ma anche dovesse arrivare in finale, io prendo sempre Jannik Sinner. Poi Djokovic vincerà tutte le partite clamorosamente, se si rivelerà un cyborg ancora più di quello che è, va benissimo, saremo i primi a fargli complimenti e a dirgli bravo. Però ad oggi io mi preoccupo e penso solo a Sinner, agli altri azzurri, e alla prima partita che Jannik dovrà affrontare contro Hansmann. E' già prematuro anche pensare all'incontro contro Berrettini, scusate ancora per il gioco di parole. Tuttavia, in questo canale, anche magari più tardi nel corso di questa giornata, potremo un po' fantasticare su quello che è un ipotetico percorso, su quelli che sono gli avversari, come abbiamo fatto ieri. Però un conto è fantasticare, un altro conto è andare subito a mettere dei paletti. Quindi, una cosa alla volta, intanto Hansmann, poi si sarà Berrettini o Fuksovic, e poi si vedrà. Anche perché non dimentichiamo che anche gli altri avranno da fare le loro e è peggio magari sottovalutare l'avversario di turno e andare fuori che non fa trovare magari gli ottavi un avversario sulla carta del proprio livello ed uscire. Quindi ecco, ci sono troppe variabili e staremo a vedere quello che succederà. Detto questo, vi auguro un buon inizio di fine settimana, ci vediamo più tardi per un altro video e ormai ci siamo. Wimbledon è alle porte, il primo luglio si comincia.